... Martedì 26 luglio, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 tutte le mattine in diretta alle 7 e mezzo, poi in replica fino alle 8 e mezzo alle 13 e 30, alle 9 e 10, insomma anche un'demanda sul sito internet c'è la rassegna stampa, diamo un'occhiata ai giornali, il resto del carino è il Corriere Adriatico dicevo ben ritrovati, cominciamo subito con il santo di oggi oggi sono due santi, due santi famosissimi perché sono i genitori di Maria sono i nonni di Gesù, Gioacchino e Anna il sole è sorto alle 5.50, tramontarà alle 20 e 38 oggi il tempo previsto per la nostra regione, cielo poco nuvoloso con precipitazioni nelle ore centrali soprattutto sull'entroterra vedete, in particolare nella zona centro-meridionale occasionalmente soltanto trascinati anche lungo la costa però parliamo della costa sanbenedettese il vento sarà di bellezza tesa per la giornata di oggi domani mercoledì 27 luglio, ancora tempo instabile tutto l'entroterra, gli appennini, vedete, coinvolti in questa seconda parte di rovesci temporali fusi nelle zone interne in esaurimento poi durante la serata per giovedì ancora perturbazione che insiste con rovescio temporali sparsi nelle zone interne però occasionalmente sarà possibile che questi temporali arrivino fino alla costa dei flussi in quota quindi non è da escludere che giovedì sia ancora una giornata un po' così così il cielo sarà parzialmente quindi nuvoloso in particolare nelle ore centrali della giornata migliore in serata il tempo sarà poi soleggiato per il fine settimana con instabilità che ancora proseguirà nelle zone interne anche lunedì e martedì allora si parla di turismo si parla di turismo questa mattina del turismo soprattutto nelle pagine di Fano turismo che è in cerca di identità nella nostra città perché è un turismo così che a volte fa un po' acqua da tutte le parti perché? Perché sono tanti non si possono dire, raccontare in una pagina di giornale o in una rassegna stampa che ha così poco tempo però fatto sta che in questi giorni, in queste ore si sta discutendo per esempio e lo vediamo sul Corriere Adriatico il quale dedica due pagine compresa il titolo in prima pagina in prima, vedete sulla questione dei decibel Pesaro ha tutto parti e fa la differenza tra Pesaro e Fano Pesaro ha tutto parti Fano invece spegne la musica gli eventi dell'estate marcano le differenze tra le città rivali e che cosa scrive il Corriere Adriatico cosa scrive Silvia Falcioni alle pagine 2 e 3 vacanze, animazione, divertimento dove è la festa? la polemica rimbalza tra Pesaro e Pesaro e infiamma l'estate degli eventi qual è la formula giusta per attirare turisti e trattenere i giovani la spiaggia pesarese pulsa di vita anche dopo il tramonto sull'onda dei decibel a Fano invece la musica si spegne e i giovani se ne vanno mestamente e allora andiamo a vedere le due pagine del Corriere in primo piano eccola qua la tribù che balla di notte sotto monte pienone una festa dove tutti sono lì ad ascoltare la musica del DJ è anche vero e qui dobbiamo essere onesti sotto monte non è come allo sport park dove recentemente è stato annullato un concerto nel senso che ci saranno delle case immagino sotto monte ma sono davvero pochissime il resto c'è spiaggia, mare e quindi non ci sono invece abitazioni e comunque questo è una tribù che balla di notte sotto monte a Fano salta il tributo ai Pink Floyd politiche turistiche a confronto l'ARPAM, l'ente che controlla i decibel oltre all'inquinamento elettromagnetico acqua, aria, gas eccetera l'ARPAM controlla i decibel allo sport park e la deroga viene revocata siamo da 70 decibel si passa a 65 il pubblico a Sassonia arrivava anche da 150 km di distanza il comune sanziona lo staff con raro tempismo cioè lo ha subito sanzionato e quindi questa è una delle due pagine la seconda, vediamola eccola qua sempre dal Corriere Adriatico vendiamo eventi il format funziona a Pesaro la sterzata è arrivata in due anni e il sindaco Matteo Ricci accelera altre manifestazioni di richiamo in programma tra cui e questa arriverà al 10 di agosto la notte di San Silvestro arriverà con la notte delle candele mentre sempre sulla su questa pagina del Corriere Adriatico vedete ancora il coro di proteste il coro di proteste che è subito partito su Facebook in particolare sui social la festa era piaciuta molto alla maggior parte dei fanesi ricordiamo è stata annullata la serata di domenica quindi le altre quelle che si erano tenute nei giorni precedenti si erano svolte regolarmente in tanti erano andati allo sport park tra cui anche famiglie con bambini perché era presente l'animazione per i più piccoli però all'annuncio dato dall'organizzazione su Facebook della chiusura anticipata si è scatenato un coro di proteste sia per la qualità della manifestazione che per la mancanza di eccessi quindi come dire è una festa tranquilla quindi niente di che però c'era il problema suonavano credo fino a mezzanotte un quarto hanno rispettato i tempi però insomma abitare lì e avere la musica ad alto volume fino a mezzanotte un quarto sapere che fino a mezzanotte un quarto era impossibile dormire insomma questa è la questa è la vicenda sulla quale si discute in questi giorni anche polemiche dal punto di vista politico poi sono scaturite andiamo sulla pagina di Fano del Corriere ecco qua ancora il turismo in primo piano il turismo sostenuto dagli eventi nonostante il malessere degli operatori il sindaco è ottimista sul bilancio finale della stagione gli ospiti colpiti dalla bellezza di Fano ad agosto ci saranno altre iniziative nel 2017 più cura delle aree verdi dopo le asfaltature i lavori alla rocca e gli imprenditori attenti al bene comune il sindaco dice stiamo redigendo l'elenco delle priorità delle opere sotto invece sulla pagina di Fano fusione inutile rischiosa voteremo noi il Movimento 5 Stelle sulla fusione di Aset Spacco Aset Holding dicevo i grillini per Aset rilanciano l'idea dell'azienda speciale vendeva hashish ai ragazzini arrestato nella zona del mare uno spacciatore era molto attivo a Lido e alla Sassoni è stato preso dopo una fuga a piedi dal Luna Park i clienti venivano contattati nelle ore diurne di giorno e anche serali con si aveva un panetto di 400 grammi sotto passi ferroviari grazie alla lottizzazione l'intervento previsto in Viale Piceno a carico dell'impresa costruttrice loca servita a tavola e il ritorno di Frozen siamo alla festa di Borgo Cavour pieno centro via storica del centro di Fano ripropone Borgo Cavour ripropone giochi e divertimento del passato Arfano Animation distribuirà a tutti i bambini confezioni di bolle di sapone per i piccoli la competizione ludica per gli adulti l'intrattenimento invece jazz vedete momento della festa che abbina gioco e gastronomia che è curata da un'osteria che è lì a due passi in via Cavour si cercano mecenati ecco i beni da salvare i privati che potranno scalare che potranno dedurre dalla dichiarazione dei redditi insomma dal fisco i soldi che daranno a favore dei beni cittadini riproposto il progetto Art Bonus c'è la pala d'altare di San Michele questo è il titolo andiamo sulla Valle del Cesano del Corriere Adriatico Valle del Cesano pubblica un no all'ospedale unico come titolo principale ed è il coro dei sindaci di San Lorenzo Pergola Piaggia Fossombrone Montecopiolo che parlano di un piano sanitario alternativo per tutelare le emergenze e le strutture per acuti la psicologia nello sport siamo sempre sulla pagina della Valle del Cesano da Monteporzio master contest sui campioni partecipanti da sei regioni a Monteporzio con Semmi Marcantonini e sotto c'è la fotografia degli allievi e dei docenti di questo master in psicologia dello sport che si è svolto al centro sportivo Olimpia sono stati rilasciati anche dei diplomi con un tesserino al termine di questo ciclo di incontri iniziato nel mese di gennaio e poi ne parleremo anche dopo in chiusura di rassegna stampa inizia oggi la giornata mondiale della gioventù a Cracovia anche da Mondolfo oltre che da tutto il mondo da tutta Italia da Mondolfo a Cracovia per Papa Francesco con Donaldo con i social vicini ai nostri ragazzi così viviamo la loro gioia c'è che è rimasto a casa e quindi può vivere ormai con i social network la comunicazione globale e soprattutto istantanea real time quindi ciò che succede è davvero in presa diretta da Senigallia un giorno speciale oggi per i senigalliesi e non solo i senigalliesi anche per quelli che sono lì in vacanza perché oggi è l'inaugurazione di Piazza Garibaldi c'è la taglio del nastro questa piazza bellissima ristrutturata anteprima con il governatore Ceriscioli il sindaco Mangialardi dice pronto a vivere una grande emozione anche un annullo postale con folder e cartoline il costo della serata è di 12 mila euro il costo per questa inaugurazione adesso apriamo il resto del Carlino per chiudere sindaco aiutaci tu questa è la fotografia con la richiesta di questi residenti che hanno a che fare evidentemente un po' tutti i giorni con lo spaccio e la violenza in questo piazzale piazzale Matteotti a poche decine di metri dal comune e dalla questura i residenti e i negozianti non ce la fanno più decine di mail e segnalazioni inviate a Matteo Ricci alle forze dell'ordine dove scrivono abbiamo paura e qui nessuno risolve la situazione i cacciatori la regione chiede alle doppiette la gabella sulle postazioni colpa della provincia la rabbia dei cacciatori tartassati capanno in regola 600 euro sotto via i piccioni l'ospedale spende 30 mila euro pericolo infezioni e zecche un piano costoso per liberarsi dai pennuti nelle pagine interne del resto del Carlino e allora andiamo sulla pagina di Fano ecco qua la notizia d'apertura ancora aiuti alla famiglia che vive in automobile la famiglia Cesaroni intanto anche un figlio dormirà in auto con loro ricordiamo la coppia ha due figli c'è chi offre denaro ieri c'è stato un incontro in comune sotto nuovo ciclo per art bonus altri progetti pubblici e sopra sempre su questo argomento c'è l'intervento di Marina Barniesi l'assessore che dice mai abbassata la guardia l'assessore a politiche sociali interviene sul tema della povertà fusione Ase e Tigrillini sono perplessi i cittadini avranno più da perderci che da guadagnarci mentre sulla fondazione Carifano ieri c'è stata la nomina di quattro nuovi consiglieri lascia Alberto Berardi al suo posto Gragnola entra anche Lucarini e questa è l'altra notizia sulla pagina di Fano del resto del Carlino ancora da Fano Droga è stato un 43enne lo abbiamo visto anche poco fa era solito gironzolare dalle parti di Sassonia Sud apparentemente un uomo nordafricano che avvicinava i giovani che di solito si radunano in quella parte di Via L'Adriatico e lì poi spacciava la sostanza stupefacente c'è anche la notizia di un incidente con due fieriti lievi e il bavaglio a chi vuol far musica l'intervento del consigliere di opposizione Alberto Santorelli noi ci fermiamo qui con le notizie sui giornali torniamo domani mattina come sempre puntuali alle 7.30 vi ricordo che oggi pomeriggio dicevo comincia la giornata mondiale della gioventù che fanno tv seguirà tutto in diretta e allora vi ricordo che oggi alle 17.30 quindi alle 5.30 del pomeriggio ci sarà la santa messa d'apertura della giornata mondiale della gioventù che è preseduta dal cardinal Giewicz che praticamente è il segretario il stato segretario per una vita di Giovanni Paolo II è venuto anche a Fano in occasione della visita apostolica del Papa quindi alle 5.30 del pomeriggio ci sarà questa santa messa d'apertura di conseguenza sia il rosario che la messa quella che abitualmente solitamente trasmettiamo nel pomeriggio non verrà trasmessa perché ci sarà questa insomma quindi in diretta ok non ci sarà il rosario ma il rosario c'è alle 3 del pomeriggio in diretta su Televoce Cristiana canale 216 mi fermo qui stasera 8.30 ci vediamo con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti grazie a tutti